Buongiorno, bentrovati, allora andiamo verso una parziale ripresa, pronta anche la colazione, buon segnale, come ai vecchi tempi, migliorano i numeri, ma a mio parere ancora non abbastanza, calano i decessi, ma sono ancora più di 300, calano i contagi, soprattutto bisogna prendere tutto con i guanti, anche in questo senso metaforico, perché ci sono ancora più di 100.000 malati, tra virgolette, e quindi bisogna fare molta attenzione, anche perché probabilmente, come dicono gli esperti, ce ne sono molti, molti di più, e riaprire, andare fuori senza le dovute precauzioni potrebbe essere molto pericoloso, quindi andiamo avanti, quest'ultimo sforzo per avvicinarci a questa fase 2 che sta creando così tante polemiche, chiaramente uniti ai compatti, però possiamo andare avanti e cercare di sconfiggere questo virus maledetto, tante polemiche, soprattutto sul mondo del calcio, se ripartire o meno con il campionato, voglio chiedere anche il vostro parere, commentare insieme, ieri ho lanciato un sondaggio su Twitter con l'84% favorevole alla sospensione definitiva del campionato, come è stato deciso in Francia, io sono sempre stato appunto d'accordo con questa, diciamo, visione quando non c'erano le condizioni di sicurezza e quindi ero contrario al fatto di giocare quando era tutto ancora nebuloso e pericoloso, diverso però per me adesso è la situazione, nel senso che c'è un protocollo di sicurezza di non so quante pagine, misure cercate e studiate per ripartire e poi sono gli stessi calciatori tramite l'AIC, come abbiamo sentito Tommasi, che vogliono tornare ad allenarsi, che vogliono tornare a giocare chiaramente in sicurezza senza rischi o con i rischi comunque che hanno qualsiasi tipo di lavoratore che va al supermercato, che torna in fabbrica, che tornerà tutti quelli della ristorazione, insomma tutti quelli che torneranno a lavorare avranno comunque più rischi rispetto allo stare chiusi in casa, più contatti e lo stesso dicasi anche per i calciatori, quindi se ci sono le condizioni di sicurezza accettate dagli stessi che andranno in campo e ricordiamo anche da tutti quelli che lavorano con loro, perché non ci sono solo i calciatori che sono la punta dell'iceberg, ma tutte le persone, gli staff medici, fisioterapici, i guardiani per dire della pinetina, i cuochi, tutta come ogni impresa, ci sono tante tante figure, gli addetti alla comunicazione, lo staff degli allenatori, insomma se c'è la sicurezza e gli stessi lavoratori del calcio sono d'accordo a una ripresa, non vedo perché bisogna per forza di cose populisticamente andare contro e andare avanti con questa guerra che potrebbe essere ancora più sanguinosa di tutte le altre visto che se si fermasse il campionato sarebbe veramente un disastro dal punto di vista economico per tutti, ma anche per lo Stato che non avrebbe tanti tanti contributi che invece ha da tutta questa industria del pallone e anche per le famiglie di tutti quelli che rischiano posti di lavoro, cassa integrazioni e come in ogni altro settore. Quindi se ci sono le condizioni di sicurezza garantite e i protocolli di sicurezza sono, come dire, condivisibili e possono garantire la salute, è giusto continuare, riaprire anche il calcio così come le altre attività, diverso il discorso se fosse veramente molto pericoloso, però a quanto vedo in Germania sono già pronti a ripartire. Anche nel protocollo FIGC sono previsti test a tutto spiano per cercare di evitare qualsiasi possibile tipo di contagio, certo è che però il fatto che Dybala al quarto tampone sia ancora positivo, nonostante abbia una carica virale bassissima, si stia allenando comunque senza problemi, senza nessun sintomo, pone molte riflessioni da fare. Questa è la mia posizione, parliamone insieme, chiaramente bisogna poi vedere anche ora di tra 10-15 giorni come sarà la situazione, come sarà la curva, quali saranno i valori e anche che effetto avrà la parziale riapertura decisa dal governo il 4 di maggio. Ma andiamo adesso a parlare degli argomenti che più ci interessano, ci alleviano, parliamo di calciomercato perché sembra proprio che l'Inter abbia scelto il sostituto di Lautaro Martinez nel caso di una sua partenza che è un po' più probabile ma non così scontata visto le difficoltà che ci sono con il Barcellona, visto che comunque come vi ho detto da via della liberazione sono molto fermi sulle loro posizioni e vogliono il valore della clausola o una offerta equivalente senza giocatori poco interessanti, però prima di tutto parliamo del possibile sostituto che sarebbe nel caso di una sua partenza Timo Werner, valore della clausola di 60 milioni, nel giocatore attaccante 24 anni del Lipsia, una delle creazioni di Ragnik che è in orbita Milan come possibile diciamo allenatore e direttore tecnico, un attaccante che potrebbe essere molto visto come anche il sostituto tecnico di Lautaro Martinez, una prima punta anche seconda che potrebbe integrarsi molto bene con Lukaku, Piaciamarotta e Audausilio, il valore di 60 milioni e ci sono stati contatti con il suo agente Carlein Foster, ex vecchia Gloria, ve lo ricordate negli anni 80 con la maglia della nazionale tedesca e l'Inter sta cercando appunto di arrivare al giocatore su cui ci sono anche altre società importanti, prima su tutte il Liverpool, il Bayern Monaco e anche la Juventus ha fatto un pensierino, però l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo se Lautaro manifestasse la sua intenzione esplicita di andare a Barcellona, l'intenzione dell'Inter è trattenerlo ma se il giocatore si dovesse mettere di traverso non farebbe diciamo barricate, serve però come abbiamo ripetuto nei giorni scorsi l'offerta giusta, un'offerta equivalente alla clausola quindi 111 milioni e non giocatori poco interessanti, in questo senso però sembra proprio che il Barcellona stia cercando il cash necessario per arrivare a Lautaro Martinez che è diventato l'obiettivo principale anche più di Neymar, troppo onerosa l'operazione in un periodo soprattutto di crisi, cercare di riportare Neymar a Barcellona e quindi è Lautaro l'obiettivo numero uno e il presidente Bartomeu sta provando a vendere anche Semedo che si diceva potesse rientrare nel pacchetto Lautaro Martinez, si dice molto vicino al Manchester City in Inghilterra, stesso discorso per Todibo, prime pagine i giornali spagnoli vicini al Barcellona con Coutinho per cui gli spagnoli vorrebbero 100 milioni, tutti i soldi da investire poi su Lautaro quindi si sta cercando il cash più che altro per l'operazione in cui potrebbe rientrare Vidal, altri nomi poco interessanti come Junior Firpo, forse ci potrebbe essere un'apertura per Emerson Royal, terzino 21enne brasiliano che è stato convocato anche in nazionale che piace come prospetto però è diciamo anche un rischio prendersi un giocatore così giovane così come Alenia, Conte per lasciare partire Lautaro vuole delle sicurezze o soprattutto vuole i soldi necessari per arrivare a giocatori importanti come Timo Werner e avere una squadra ancora più forte rispetto a quella di questa stagione, Timo Werner e anche Federico Chiesa perché la Juve sembra un po' allentare la presa sul giocatore, potrebbe favorire l'assalto dell'Inter sfruttando il periodo, sfruttando il tesoretto che arriverà dal riscatto di Icardi del Paris Saint Germain che sembra intenzionato a pagare entro fine maggio i 70 milioni magari con uno sconto decisi l'estate scorsa con questo tesoretto si può dare l'assalto a Chiesa a Tonali per Chiesa l'Inter offre 25 milioni d'Albert e Nainggolan di rientro da Cagliari per cui ci sono poche possibilità di una sua permanenza anche se non è più così diciamo scontato anche che non possa restare, non ci dovessero essere offerte, l'Inter se lo potrebbe tenere, per Perisic invece possiamo dire che il Bayern ha confermato l'intenzione di scattarlo con sconto o si potrebbe comunque parlare di uno scambio con Tolisso come vi avevo detto se le condizioni fossero buone per la casa Nerazzurra, questo per quanto riguarda la situazione con Lautaro Martinez che intanto continua ad allenarsi a casa così come gli altri giocatori e prima pagina di marca con le parole di Rakitic che dice, e siamo abbastanza d'accordo, così come ricominciano gli altri lavoratori perché non possiamo farlo anche noi calciatori questo è un pensiero che possiamo condividere sempre però comunque con la tutela della salute di tutti e con il rispetto massimo della sicurezza di tutte le precauzioni possibili quindi per quanto riguarda dicevamo Chiesa e poi invece per Tonali potrebbe essere Pinamonti la pedina di scambio in un mercato che sarà principalmente di scambi, di baratti un po' per cercare di ovviare alla crisi di rimpolpare i bilanci, Pinamonti più una ventina di milioni, Pinamonti che l'Inter riscatterà dal Genoa come secondo accordi presi l'estate scorsa per altri 18 milioni quindi un'offerta di una quarantina di milioni magari valutando un po' di più Pinamonti per permettere comunque sia Inter che Brescia di fare un'operazione molto importante aspettando poi di vedere sul fronte Brozovic anche cosa possa succedere perché anche lì il Liverpool sembra intenzionato a pagare la clausola rescissora da 60 milioni e poi l'Inter dovrebbe andare a cercarsi un playmaker che potrebbe essere Tonali ma che non è proprio il suo ruolo provare in versione bassa Eriksen all'apirlo potrebbe essere anche una soluzione questo quanto andiamo a leggere, a cominciare la nostra rassegna stampa Sport Mediaset, Kumbulla e i suoi fratelli, i giovani talenti che infiammano il mercato Federico Chiesa si è in uscita e poi gli under 23 dei club medio-piccoli della A c'è Kumbulla dell'Ellas Verona che dovrebbe arrivare in nera azzurro a fine stagione anche se si sta parlando col Torino di uno scambio Gagliardini-Izzo e in quel caso potrebbe rimanere per un altro anno a Verona Kumbulla che ha scelto l'Inter molto interessante come prospetto Piaciaconte che vuole costruirlo come ha fatto con Bassoni poi si parla su Sport Mediaset di Sandro Tonali con Gaetano Castrovilli, Dragoschi e Nicola Milenkovic gli ultimi due della Fiorentina molto interessanti Geremì Bogà del Sassuolo, l'attuale valore del mercato intorno ai 20 milioni di euro lo rende appetibile per due club che vogliono fare il salto di qualità senza dimenticare aggiungiamo noi Locatelli del Sassuolo che ha fatto molto bene con De Zerbi vedremo quali scambi anche le squadre italiane riusciranno a imbastire l'intervista all'ex medico della Nazionale Castellacci ripresa, la prudenza del governo è eccessiva ha detto non capisco come non si possano fare degli allenamenti individuali in un campo di calcio che venga frazionato avete presente quanto è grande un campo di calcio se uno lo fraziona con tempi diversi con uno dello staff per ogni giocatore accadrebbe la stessa cosa che uno si allenasse in un parco in un giardino questa cosa mi ha lasciato interdetto l'abbiamo detto anche noi nei giorni scorsi ma poi pensate un Cristiano Ronaldo un Lukaku che vanno a correre dal parco che problemi di anche contagi con la gente che è lì ad allenarsi che potrebbe, che andrebbe a chiedere una foto un contatto sicuramente sarebbe molto più pericoloso questo rispetto a riaprire parzialmente i centri sportivi e consentire scaglionati individualmente ai giocatori di tornare ad allenarsi in strutture atte e dedicate come sono le piscine per i giocatori e messe in sicurezza sanificate come è già stato fatto negli ultimi tempi andiamo ai giornali in edicola Gazzetta dello Sport con questa situazione paradossale del calcio italiano che è appeso a un filo per tanti giornali in edicola e con Spadafora che cerca di fare asse con il campionato francese la prima pagina della Gazzetta però è dedicata a Gigio Donnarumma il Milan ci prova le prime manovre Donnarumma in scadenza il prossimo anno la società studia il suo rinnovo poi Lautaro, l'Inter non fa sconti messaggio al Barca per sedersi a trattare ci vogliono 90 milioni cash il club fissa la base da cui partire per cedere l'argentino Werner l'alternativa quindi 90 più 20 di Vidal e sarebbe quella l'offerta come vi diciamo fin dall'inizio poco interessanti tutti gli altri giocatori mercati, contratti della stagione lunga senza nuove regole può essere il caos ripartenza Spadafora serve un piano B sentiero sempre più stretto con Gravina che invece dice che non firmerà lo stop andiamo all'interno della Gazzetta Serie A è ripresa la strada è in salita Spadafora serve un piano B sentiero sempre più stretto Gravina non firmo lo stop con poi il problema del mercato in apnea contratti e prestiti caos a fine giugno senza norme ad hoc Mertens in scadenza con Napoli il caso limite Kulusevski subito la Juventus e comunque Rebus le date del mercato con quel giallo del like che aveva messo poi tolto Mertens su un post su Instagram in cui si sottolineava il fatto che non gli fosse poi è stato ancora rinnovato il contratto che fa capire insomma che ci sono problemi tra lui e il Napoli per la sua permanenza e quindi l'Inter ci pensa ed è come pagine dedicate all'Inter con l'offerta del Barcellona Semedo è il preferito tra le contropartite a sinistra Emerson il terzino del Chelsea primo obiettivo su una corsia il portoghese davanti a Firpo e Royal proprio detto come anche il Manchester City sia pronto ad acquistarlo e quindi potrebbe creare ulteriori problematiche nella trattativa con il Barcellona interconnessi dipendenti gli uni dagli altri nessun uomo è un'isola è una frase che ha oltre 400 anni nessun affare è un'isola è un concetto che si adatta bene al mercato nerazzurro prossimo venturo i primi nomi che il Barcellona ha fatto trapedale come possibili contropartite per il Toro hanno raramente scaldato la dirigenza nerazzurra tre degli attuali occupanti le corsie più il Gioli D'Ambrosio dovrebbero essere confermati ma sia Young che Candreva che Moses hanno un alto chilometraggio danno certezze immediate ma non sono troppo futuribili dal Barça potrebbe arrivare materiale più fresco Nelson Semedo il più apprezzato il laterale destro portoghese 13 presenze in nazionale 32 nelle coppe collocazione naturale a destra ma in emergenza può giocare anche a sinistra il portoghese è anche quello più caro quotazioni intorno ai 35 milioni forse troppi per il momento attuale si dicevano che 45 l'alternativa sarebbe Junior Firpo più di Junior Firpo Emerson Royal 21 anni impresso come vi dicevo prima al Betis dove gioca stabilmente un 3-5-2 classe 99 un investimento una possibile plus valenza Conte però per la prossima stagione vuole uomini giocatori fatti e finiti specialmente a sinistra dove Biraghi dovrebbe tornare a Firenze Samoa salutare Young rimanera al momento l'unica soluzione qui l'obiettivo principe diventa Emerson Palmieri 25 anni già suo giocatore per solo 6 mesi al Chelsea il terzino azzurro è un mancino puro il Chelsea potrebbe decidere di privarsene dopo un'annata in cui ha perso il posto da titolare in vista di un rinnovamento nel settore dei blues il club di Abramovic parte da una richiesta superiore ai 30 milioni c'è la concorrenza della Juve ma chiaramente se l'Inter riuscisse a fare tanto cash potrebbe andare tranquillamente a trattare con il Chelsea febbre a 90 90 milioni e poi rotta su Werner nerazzurri rigidi no a contropartite con valutazione alta sul tedesco spinge pure il Liverpool su consiglio di Klopp leggiamo febbre a 90 colpisce tutti i tifosi dell'Arsenal come nel film magari pure quelli di Barcellona e Inter che mentre sui social si beccano ricordando la semifinale del 2010 ogni tanto un pensiero lo rivolgono anche a Lautaro Martínez chiodo fisso del Barça pedina cruciale del futuro prossimo dell'Inter la febbre allora è nell'annuncio forte e chiaro che non c'è trucco neppure inganno ma soprattutto non c'è sconto perché l'Inter vuole per senesti al tavolo 90 milioni di euro cash poi si potrà accettare di parlare di contropartite tecniche qui io continuo a ripetere Vidal valutata una ventina di milioni potrebbe sistemare la trattativa per poi andare la base 90 milioni cash valgono una risposta in indiscrezione in Barcellona disposta ad arrivare a quota 50 con i contanti e con quelle basi l'Inter non ragiona neppure non vuole farlo perché in un mercato che sarà certamente diverso rispetto al passato pieno di incognite troppo rischioso crearsi un problema di natura tecnica ovvero l'accessione giocatore centrale come Lautaro senza soldi sufficienti poi per andare a comprare un altro sostituto perché tale andrebbe considerato un inseguimento a Timo Werner tedesco dell'Ipsia che piace a tutti all'Inter al Chelsea al Liverpool è sul taccuino del club di Zhang da gennaio già a dicembre i dirigenti nell'Azzurri avevano sondato il terreno con gli agenti del tedesco per capire la situazione la pista è viva è evidentemente collegata all'affare Lautaro dunque la cessione del Toro ergo l'Inter non può affondare con l'Ipsia prima di aver capito fino in fondo il destino di Lautaro la buona notizia è che lo stesso Liverpool ora è in una situazione di attesa ha provato a sondare Mbappé sta cercando anche Osime del Lille e vedremo insomma quale saranno anche qui le mosse alla ripartenza oltre alla clausola in soldoni lo scenario è fluido c'è margine per l'Inter nonostante la concorrenza del Liverpool Werner ha una situazione per certi versi simile a quella di Lautaro anche il tedesco ha una clausola di 60 milioni di euro esercitabile entro metà giugno risultava fino alla fine di aprile non sappiamo se sia stata prorogata per il lockdown e quindi poi un altro colpo dopo il sostituto di Lautaro c'è il nome poi di Cavani che affascina Antonio Conte e c'è certamente quello di Dries Mertens nel quale l'Inter è disposto a offrire un triennale per sostituire Rosa al partente Sanchez che i nerazzurri non riscatteranno dal Manchester United a una certezza in tutto questo c'è Antonio Conte non vuole salti nel buio quindi rinuncerà Lautaro solo se avrà avuto garanzie di crescita nuova luce oltre la Lula questo quanto poi col giovane Persin che rinnova per 4 anni Conte vuole valutarlo in ritiro con i grandi l'esterno è stato diciamo messo sotto contratto dopo aver perso Gnonto l'Inter si tiene stretta al belga laterale della primavera andiamo al Corriere dello Sport titoli dedicati insomma queste problematiche di un calcio che rischia la chiusura e una crisi colossale andiamo all'interno Spadafora divide il governo allenamenti e ripresa del campionato ministri in ordine sparso il titolare dello Sport scettico il sentiero sempre più stretto ci sono presidenti pronti a chiedere la sottensione come in Francia Lega FGC preparino un piano B il vice di Speranza rincara la dose inverosimile una ripresa le regioni contro il decreto sulla preparazione individuale boccia concorda va precisato l'irritazione del premier Conte poi di Bala ancora positivo Lazio e Roma sulla stessa barriccata fateci allenare che caos il governo si divide sul calcio club compatti 18 su 20 per la ripresa poi Gravina gran mediatore immobile fateci allenare così ci discriminate e se Immobile e Dzeko andassero a correre lunedì a Villa Borghese dopo la battuta di Lotito il bis di Ciro e la domanda che sembra un invito vogliono tornare a Formella e Trigoria ma c'è un fronte comune tra i due club che non c'era mai stato i problemi nel resto d'Europa ma andiamo alla pagina dedicata all'Inter prima Mertens un like in salsa inglese il Chelsea preme con Lampard il Belga mette un mi piace poi rimossa la critica avanzata dell'Aurenti sul mancato rinnovo i Blues li propongono un progetto da protagonista poi Brozovic sarà un'estate calda vuole restare fino a 2023 ma chiede anche un milione in più a centrocampo c'è Folla regista al bivio il rinnovo o la cessione con l'Inter che stava già studiando un rinnovo di altre due stagioni per adeguare poi anche il suo contratto che ora è di 3,5 a 4,5 togliendo la clausola di recessione di 60 prevista dall'1 al 15 luglio come avere il contratto di Lautaro rischio di una cessione obiettivo di un nuovo contratto Marcello Brozovic resta in bilico complice un Inter che si è appena rifatta a Luca a centrocampo e che qualcosa combinerà anche nel prossimo mercato c'è una clausola recessoria non esattamente alla portata di tutti che può liberare il Croato per 60 milioni di euro attiva nelle prime due settimane di luglio come vi ho appena detto nulla che però metta a riparo l'Inter dal timore scadenza l'accordo termina tra due anni e vedere il cartino di Brozovic deprezzato non si vuole rischiare che la Nera Azzurro provvederà a cautelarsi intanto il regista batte cassa in fatto di stipendio e occorrerà venirsi incontro anche perché parliamo di un leader conclamato soltanto Ranocchi Andanovic e D'Ambrosio sono all'inter da più tempo di Brozovic arrivato nel gennaio del 2015 scontato in ogni caso l'uscita di qualcuno in mediana il cerchio si stringe al netto le decisioni che l'Inter prenderà sul futuro di Nengolan che tornerà a Milano dopo la fine del prestito al Cagliari l'Uruguayano Vessino e Gagliardini sono attenzionati il primo in orbita Premier League con l'Everton a un passo al suo acquisto lo scorso gennaio una valutazione che non scende dai 20 milioni mentre Gagliardini potrebbe muoversi verso Torino come vi dicevo in uno scambio con Izzo tutto sport andiamo velocemente a chiudere la nostra rassegna stampa dei giornali sportivi in prima pagina il caso di Bala e la sua situazione ancora positivo al tampone l'Argentino non è ancora negativa al tampone per il coronavirus ma sta bene si allena il professor Di Perry Iter normale di Bala la verità il titolo e poi schiaffo a Spadafora si può giocare l'UEFA Champions d'Europa League sicure in agosto il capo dei medici ripresa certamente possibile dal calcio al nuoto al tennis tutto lo sport contro il ministro gravina non firmerò lo stop uno stop che sarà la morte del calcio Spadaforo ministro senza patente non guida preferisce l'autista è passato da Montezemolo a Grillo lo scandaloso caso del tennis nel limbo il decreto non chiarisce se i circoli possono riaprire il 4 maggio governo incompetente dobbiamo alzare la voce poi il nuoto è pronto ma così non può davvero ripartire c'è il protocollo per la ripresa insostenibili però i costi di gestione se non si riavvia l'attività di base ripartire si può invece è quello che sostiene il presidente del comitato medico dell'UEFA ci sono le condizioni per riprendere le competizioni va assicurata la salute degli atleti e delle persone coinvolte ok l'apertura è 4 maggio ma non siamo liberi tutti Balotelli le sue parole che si è detto ancora molto legato all'Inter sale la tensione tra Artur e il Barça e la Juve aspetta innervosito dalla scelta del club Blaugrana di trattare la sua cessione il brasiliano nega l'addio però apprezza l'interesse bianconero paratici pronto all'affondo e poi i giorni nelle pagine dedicate all'Inter Inter già nel futuro esposito 2025 sì a luglio quando diventerà maggiorenne firmerà il rinnovo per 5 anni poi verrà ceduto in prestito per tornare in Erazzurro da protagonista poi si parla anche del vice Andanovic Radu e Albivio dipende da Sepe Bastoni già fermato in prima squadra ed esposito in rampa di lancio poi tra i giocatori in prestito al Verona ci sono Salcedo e Di Marco che dovrebbero rientrare nell'operazione Cumbulla poi portieri Brazzau Pogia al Basete mentre da chiarire il futuro di Radu il portiere è stato riacquistato dal Genoa la scorsa estate per 10 milioni l'Inter crede nel portiere l'Under 21 romena lasciato in prestito al Genoa Radu è stato uno dei migliori rosso-blu poi è stato messo da parte col ritorno di Perin l'Inter lo ha spostato a Parma nel frattempo si era infortunato Sepec peccato però che da Versa gli abbia preferito il più esperto Colombi così Radu ha finito per fare la riserva alla fine stagione tornerà a Milano e bisognerà poi vedere cosa fare con la questione legata a Padelli scadenza di contratto l'ex Granata dovrà valutare se accettare il ruolo di terzo con Berni che dovrebbe smettere ma Rotte Conte potrebbero decidere di promuovere Radu a vice andano vicendendolo quindi da piano sempre che appunto non si scambi con Sepe o che non torni di moda Musso dell'Udinese che piace molto e poi nel caso dovesse partire Martinez i trentenni per vincere subito Mertens Obama e Young sono i preferiti da Conte quindi vedete una visione diversa da quella della Gazzetta che dice di Timo Werner per tutto sport sarebbe Obama e Young la soluzione privilegiata da Conte chiudiamo la nostra lettura invece dei giornali dando uno sguardo di insieme globale con Corriere della Sera e Repubblica Corriere della Sera in prima pagina il caos per quanto riguarda questo ripartire questa fase 2 è così la app contro i contagi i governatori di centro-destra attaccano l'esecutivo la Lega resta in aula a oltranza il decreto approvato in consiglio dei ministri potrà essere scaricata la app sugli smartphone dal 18 di maggio i dubbi sul nome una app come arma contro i contagi sarà a disposizione e poi sulle riaperture i presidenti delle regioni vogliono le mani libere ma il ministro Francesco Boccia frena le fughe in avanti nella gestione della fase 2 minaccia di impugnare al Taro o alla consulta le ordinanze locali la Lega occupa l'aula per protesta insomma tanta tanta confusione spostamenti tra regioni ecco le soglie in base ai posti di letto c'è il decreto per la app che traccerà i contagi inizierà la sperimentazione corsa per essere pronti il 18 maggio regioni di centrodestra all'attacco Salvini occupa il Parlamento calano vittime nuovi contagiati le guarigioni ancora in aumento sono i numeri che ci fanno ben sperare ancora però molto elevati i decessi sempre più di 300 323 anche nella giornata di ieri speriamo che questo numero vada allo zero presto ultimo sguardo insieme alla prima pagina anche di Repubblica in edicola quest'oggi grandi polemiche come dicevamo fase 2 la rivolta è al sud Campania Abruzzo e Sicilia chiedono la chiusura dei confini noi rientri dal nord le regioni e centrodestra vogliono aprire subito boccia pronto a impugnare le ordinanze governatori lo scudo di Mattarella sui decreti di Conte per l'emergenza virus è scontro tra governo e regioni sulla fase 2 quelle di centrodestra vogliono riaprire subito quelle del sud si oppongono ai rientri il ministro boccia pronto a impugnare Altar e poi che ci sia un giorno per quei morti soli appello per ricordare che è stato sepolto senza un addio che mi sembrerebbe doveroso anche in prima pagina di Repubblica la situazione di Dybala la stella che non riesce a guarire dal coronavirus sconto sulla fase 2 all'interno poi la app Immuni l'ombrello del Quirinale sui decreti di Conte costituzione rispettata grandi polemiche nell'opposizione e una situazione insomma abbastanza caotica nonostante il momento in cui ci dovrebbe essere più unione e compattezza come abbiamo invece noi per ripartire mi raccomando ultimi giorni di sacrificio rimanete in casa precauzioni poi al massimo guanti mascherine distanza di sicurezza e sempre testa sulle spalle mi raccomando e grazie ancora a tutti per il vostro sostegno per la vostra presenza perché anche voi mi fate tanta tanta compagnia in questo momento difficile grazie a tutti